Ben trovati da TG della mobilità, le notizie sul trasporto pubblico in apertura della seconda edizione del mattino proseguono le potature sulla corsia tramviaria di via Prenestina tra via Bresadola e Largo Preneste. Tram 5, 14 e 19 in arrivo dal centro limitano a Largo Preneste da cui proseguono con bus ostitutivi. Stanotte dalle 21 alle 5 sarà chiusa via Nizia in entrambe le direzioni per lavori sull'edificio del Museo Macro, deviate le linee 38, 80 e 89. Domani dalle 21 all'Olimpico si gioca Roma-Leicester, semifinale di Conference League, la Questura di Roma predisposto a un piano di sicurezza e prevista la parziale sospensione del servizio di trasporto di superficie nella fascia oraria 22.2 di notte. Le linee che attraversano Fanno Capolina nella ZTL del centro effettueranno le ultime corse da Capolina alle 22, mentre le linee notturne effettueranno le prime partenze da Capolina alle 2 di notte.